musica musica benvenuti ragazzi in questo video di Clash Royale siamo finalmente ritornati su Clash scusa siamo finalmente ritornati su Clash ancora pensavo fossi Giambita che no Clash Royale tu scusa ma che vuoi compa mi hai fatto riflettere sull'intro che sto facendo sembrava un coglione e me la stavo ripetendo in mente vaffanculo siamo tornati su Clash Royale in compagnia di XMurriOfficial anch'io sono famoso iscrivetevi grandioso e oggi ragazzi siamo qui per fare alcune cose in particolari perchè 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 ragazzi come potete vedere siamo qui oggi per fare alcune cose particolari perchè ragazzi come potete vedere ho finalmente lo stregone elettrico ma in che modo ho ottenuto lo stregone elettrico ma c'è che dire questo dicevire finalmente ho il... cosa lo faccio vedere adesso lo stregone elettrico nello shop e ovviamente e ovviamente ragazzi non potevo mica farmi scappare questa offerta perchè questo stregone elettrico me lo sto studiando un sacco non riesco mai ad ottenerlo adesso me lo mettono qui pronto da acquistare sullo shop e che fanno lo vado a comprare certo che lo vado a comprare quindi ragazzi finalmente finalmente anche per me è arrivato questo momento di ottenere lo stregone elettrico finalmente anche io lo stregone lo stregone si l'ho ricevuto non ci sto credendo finalmente la prima carta leggendaria che acquisto nello shop non avevo mai comprato carte leggendarie nello shop ma eccolo qui ma la stessa maniera ragazzi come potete vedere andrò ad ottenere la cimitero la carta leggendaria quindi se adesso andassi ad acquistare la cimitero mi manca solo la scintilla la scintilla che ancora non ho trovato quindi ragazzi zitto giorgio zitto ragazzi cosa andremo a fare andremo a comprare punto 1 la cimitero perché vaffanculo voglio tutte le leggendari meccosha non può avere tutte le carte e io no quindi a me pure due me ne mancano qui abbiamo l'offerta fortunata che termina tra 3 giorni e 18 ore cosa andremo a fare con questa offerta fortunata andremo a shoppare quella di ovviamente 10 euro perché c'è 10 euro che ti da 1200 gem è un baule super magico onesto io con 10 euro ho preso baule leggendario mamma mia 100.000 oro che ha 100.000 gem non fa quindi ragazzi andiamo a comprare la cimitero servono 40.000 monete e quindi cosa facciamo andiamo a comprare 10 euro di gem vai lo shop sta arrivando ritorniamo al video errore al momento non è possibile completare la transazione riprova perché clash non vuole che shoppi non vuole il clash che io spendi ai miei soldi tra sé di certo clash royale a impedirti di shoppare su clash royale esatto nessuno proprio vado alla serie supercelli gli butto 10 euro davanti al cancello e me ne scappa prendeteli stronzi andiamo andiamo a comprare 10 euro da ca aaaah boom subito fatto mamma mia esatto eccole qui 1300 gem allora andiamo a comprare la carta del subitero che non vedo la ok e 10 euro Giorge perché mi serve 1579 d'oro cazzo scusa 1579 gem io ne ho 1386 ma spero solo te stai minchia perché prima non compri il pacchetto super magico di gemme sono stato un coglione perché ho comprato 10 euro di gemme 1200 gemme che se comprare il pacchetto super magico con 10 euro mi davano il baule e le gemme sono un ritardo sono un ritardo vabbè vecchia un cancro non mi fa comprare niente picciotti ma che dovevo fare no visto qua su iphone li compro oddio si è aperto subito il baule 4325 d'oro Giorgio dai fammi sognare fammi sognare 29 sgherri oggi trovo lo cimitero e ho speso soldi a muzzo ci mi taglio le palle credimi 180 scariche 314 spiriti dal fuoco sei tornato sei tornato 137 golbi scerbottaniere 137 golbi scerbottaniere 17 fulmini boscaiolo 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 eh no ci volevi guarda che fascia ok adesso 2586 gemme mannaggia a me vado a comprare finalmente la cimitero acquistiamo una carta boom ce l'abbiamo fatta Giorgio ce l'abbiamo fatta e che ne diresti di aprirci con le gemme rimanenti un baule magico ma io si io l'aprirei io l'aprirei ma si tanti soldi son miei ma che cazzo ce ne frega sono tutti loro esatto oro spiriti del ghiaccio gigante royale razzo barbari scelti capanna dei barbari come il cerbottaniere leggendaria dai dai si sta minchia comparmi finito finita sta zorba ragazzi adesso siamo su questo sito quando il boss va in standby diventa tutta gialla la base mamma mia fantastico stupendo quindi ragazzi adesso siamo su questo sito ovvero clash royale random deck generator perchè voglio andare a fare una sfida con murri totalmente random vedevo chi so sarebbe meglio le carte ecco che cosa servivo in questo video perché andremo a fare adesso una sfida in questo video con un mazzo random andrò a vedere l'efficacia di entrambi quindi allora giorgio genere il tuo mazzo arena 10 il tuo mazzo è fatto spiriti dal ghiaccio cimitero no scusa tomba tombstone quella lì come cazzo si chiama pecchio principe nero veleno panna dei barbari baby dragon si vabbè e drago infernale ok ok minchia giorgio mi è uscito un mazzo di merda copanna dei barbari clonazione copanna dei barbari clonazione clonazione prostaglione bocciatore pasticcone è zitto capanna dei goblin furia e cavaliere mega sgherro e cavallo del west e vabbè ammazzata ok ragazzi il mazzo è fatto ora si che possiamo fare questo scontro ah tra l'altro c'è il baule del grande da aprire lo apriremo dopo vai fantastico è iniziato il match è sempre fantastico ecco incredibile iniziamo così giorgio così col cancer eh ah giorgio ma che fai giorgio eh giampiero minchia ma che sta zorbara tu mi ammazza tutti è stata una bella mossa molto forbita diciamo però minchia dai che tu come tanca incredibile è un figlio di bollazza un figlio di dai dai butta 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 madre butta madre si sta minchia vabbè ci sono i barbari ok bezzo di merda ok ottimo ottimo maestia tua madre ma che è giorgio questo specchio ma dai ma è sempre lì sto cazzo di coso eh ma che ci puoi fare però guarda quanta vita ha sto figlio di troia vai 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 attacca e mori dai una hit importante ok una hit importante mi piace vedere da tombstone cioè io ho tutto spawn che devo fare picciotti niente posso fare ammazzarti perchè il mazzo spawn fa schifo si 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 proprio una mieda e va e quale faccio dai no non fare le hit allora quanto lo avveleno perchè comunque è importante anche questo quanto lo avveleno perchè mi piace un sacco avvelenare me le persone sono di party nico ah dai dai piccoli barbari infuriati bella zio bella questo è stato spiata spiata figlio di puttana merda uuuu questo è stato se non era importante questa giorgio minchia questa era importantissima come hit e porco 2 taglie così dai chiede tacco taglie le punta quanto è buona sta sarà assunta giorgio aspetta sto sono diciamo infuriato ci metti sta valeno ma non so quanto sei tu e contro due draghi infernali come stava e come devo fare che devo fare che devo fare ah spero se la faccio scuttare con questo isa dai si li ho fermati burro dai burro così dai dai impazziti 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 dai 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 fermate oddio tutto distrutto dai grandioso 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 schifo guarda hai fatto un putt grandioso mamma mia and see via mi ha creato un muro di homem ma i reggetti Buona la milizia, me l'hai ricordato? Eh, è fatti spocchio Quattro domatori di cinghiali, un barile goblin Un cucciolo di drago Se riuscire a vincere il bottanieri No, minchia, mi ha trollato E' 155 scheletri Niente leggendaria, anche oggi Anche oggi la leggenda la si trova domani Ma se hai trovato la cosa? Hai trovato il boscaiolo? Il boscaiolo è la cimiteria, minchia Oh, lo sai? Qual è la carta più Fatte system di tutto Clash Royale? Sentiamo Il boscaiolo Ah, ho capito Quindi ragazzi, per questo è il suo Clash Royale A tutti, spero che come sempre Nel video che vi sia benvenuto Se così, vi facciamo sapere con un bel pollicino sotto a questo video Eeeh, tra qualche giorno uscire il boia Quindi ragazzi, aspettatevi il boia clonato Porco boia Aspettatevi il boia clonato a non finire Perché lo farò, lo sapete che lo farò Da GVT che è tutta Eh, ciao, ciao Ora lo faccio un romano Siamo cittami Ciao 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 Ciao